allora io dico porco di quel bastardo dio maledetto quando cazzo lasci sto cazzo d'elicottero devi dirlo porco dio almeno di lascio volo c'è guarda non so manco io come l'ho fatto ancora una inquietà una male perché sennò mi si abbia stemmiato gg inizia a parlare per favore metti sta cazzo di parola per favore gg che già mi ha trotto il cazzo ho ancora quest'arma c'ho l'armamento preoccupato armi di merda ne voglio c'ho la k-47 e basta se mi viene della mano io ho finito i colpi eh ecco mi ha ammazzato penso che ci voleva un attimo a capire che mi servivano i colpi no che sono entrato appena adesso ho zero colpi vai a scelta lo trova dentro sta cazzo di merda qualcosa che devi fare automatico comunque qualcosa che devi fare automatico se uno a terra gli devi dire tutto già lo sai non te lo devo chiede ma se sai che uno a terra e se tu a terri è normale che io ti lascio pure i proiettili che è la prima cosa che ti serve no che dici ma se sono a terra da mezzo a niente fra dai di guarda ma appartuto e c'era un cazzo brava e c'era un cazzo bravo e nel drop in c'è un cazzo no no ma guarda che ti dice non è che ti voglio cazzia per cari di dio ti sto cercando soltanto di insegnare alcune stronzate fra c'ho 42 anni e porta di vista e fai so 23 anni che poi faccia cosa non non di tolto non tolto ti sto dicendo non ti voglio mancare rispetto ti sto dicendo soltanto di voglio insegnare se magari alcune cose ne sai capisce adesso ok non ti stavo a prendere per culo mancate di rispetto magari c'è il doppio delle tatua giusto ti sto dicendo che magari una cosa può essere utile può essere utile a me se mi insegnano qualcosa io l'accetto volentieri ma è normale che su una pena a terra lo sai che non c'è un cazzo no lo sai fra no vabbè non parla più io ti ho detto nessuno doveva arrabbiare nessuno doveva ancazzare o fa arrabbiare cioè fa arrabbiare a me mi frega un cazzo nessuno te devo far arrabbiare e ti ho solo detto una cosa e basta fine non ti ho mancato il rispetto il rispetto il rispetto se devi parlare, parla sempre non parla per niente che è meglio te l'ho detto, non sapevo guarda che imbotta non lo manano a tenere d'accordo grazie a tutti grazie a tutti